I giorni del mese di marzo che hanno visto una forte intensificazione del controllo del territorio da parte degli aggetti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore. Numerosi gli interventi effettuati nelle ultime ore. In particolare è stato notificato un provvedimento di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di domiciliari nei confronti di un 29enne pregiudicato nocerino per reati riguardanti lo spaccio di droga. L'uomo arrestato è ritenuto affiliato al clan camorristico facente capo ai fratelli Cuomo e dovrà scontare 18 mesi di reclusione nella propria abitazione. Controlli a tappeto sono stati effettuati in particolare nei centri di Nocera Inferiore ed Angri. Sette posti di blocco, identificate 67 persone, 35 veicoli controllati, 3 le perquisizioni personali sul posto con una persona deferita all'autorità giudiziaria per detenzione di arnesi atti allo scasso. Durante la stessa operazione di controllo è stata sequestrata droga in possesso di un 20enne residente nel Napoletano. Al giovane è stata anche ritirata la patente di guida. Un 45enne marocchino non in regola è stato invece portato all'ufficio immigrazione della questura di Salerno per le pratiche di espulsione. Intanto la polizia ha individuato anche il responsabile della falsificazione di alcuni ticket per prestazioni ambulatoriali all'ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore. La segnalazione di un dirigente medico che si era accorto che i ticket presentati per alcune visite non erano originali. È stato accertato dai poliziotti che i documenti erano contraffatti e sono stati raccolti elementi a carico di un dipendente del reparto controllato ed è stato deferito l'uomo alla procura di Nocera per truffa aggravata e falso materiale. Grazie.